Buonasera, buonasera da Onda Tg. In primo piano subito la cronaca, simulano un controllo stradale e derubano un anziano, finti agenti in azione nei giorni scorsi sulla statale 17 di Pettorano sul Gizio, ennessima truffa ma la dinamica non ha precedenti. Sentiamo meglio nel servizio. Fermano gli anziani fingendosi agenti di polizia o carabinieri simulando un normale controllo stradale e la nuova tecnica sperimentata nei giorni scorsi a Sulmona da alcuni malviventi che hanno derubato un uomo. Una nuova tattica di truffe e raggiro diffusa in Italia che sbarca anche in Valle Peligna. La vicenda è davvero dell'incredibile. Erano almeno due malviventi che hanno bloccato lungo lo statale 17 all'altezza di Pettorano sul Gizio un signore del posto. Condivise paletta che trancono in inganno hanno intimato l'alte chiedendo all'uomo di mostrare i documenti. Quello che sembrava un controllo di routine si è trasformato in una vera e propria truffa. Mentre l'uomo infatti mostrava ai finti agenti quanto richiesto i malviventi hanno sottratto un borsello contenente denaro. Una frazione di secondi che ha consentito ai ladri di portare a termine l'operazione. Per l'uomo una spiacevole sorpresa. I tentativi di truffe e raggiro agli anziani aumentano a vista d'occhio. L'episodio in ogni caso non ha precedenti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Castel di Sangro. Il Denino Morandi sia una priorità per la prossima amministrazione. Lo sostiene in una nota l'ex consigliere comunale Alessandro Pandaleo all'indomani dell'ultimo vertice in prefettura. Facciamo il punto. Il rientro degli studenti nel plesso scolastico sul Monese del Denino Morandi deve essere una priorità per la prossima amministrazione. Parola dell'ex consigliere comunale Alessandro Pandaleo che su Facebook denuncia la lungaggine del leader procedurale che vede l'edificio di Via d'Andrea ancora chiuso dal 17 ottobre 2014, giorno in cui la finanza dell'Aquila pose sigilli su una parte della scuola per presunti lavori sbagliati post-sisma. Durante la scorsa amministrazione, congiuntamente al collega Gianfranco Di Piero, ricorda Pandaleo, siamo stati solerti attraverso innumerevoli comunicati stampa e interrogazioni nel sollecitare l'amministrazione e gli enti competenti a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile per risolvere il problema drammatico dell'Istituto Denino Morandi. Tra l'altro, aggiunge, è opportuno ricordare che sempre col collega Di Piero ci siamo sin dall'inizio fermamente opposti al trasferimento degli alunni presso la sede di Pratola. Gli alunni sarebbero dovuti rimanere a Sulmona, ma qualcuno non ha voluto. Per Pandaleo non è accettabile assolutamente che la situazione odierna di provvisorietà si trasformi in definitiva. Uno dei primi impegni della nuova amministrazione, conclude l'ex consigliere, dovrà essere quello di cercare una soluzione idonea a ridurre i tempi di rientro degli alunni nell'Istituto. Questa è una priorità. Stando all'ultimo vertice in Prefettura, i tempi del rientro non saranno brevi. E sul punto nascita dell'ospedale di Sulmona, la Pezzopane non cambi le carte in tavola, lo dice il candidato sindaco di Forza Italia, Elisabetta Bianchi. Nel sostenere la salvaguardia del punto nascita di Sulmona, la senatrice Pezzopane dimentica che deve rivolgersi al suo partito, il PD. Il candidato sindaco di Forza Italia, Elisabetta Bianchi, risponde così alla senatrice Stefania Pezzopane. Infatti, il Comitato per la salvaguardia del punto nascita ha dimostrato che la scelta è squisitamente politica e che spetta la regione Abruzzo. All'epoca della giunta del presidente Chiodi, rimarca Bianchi, il punto nascita era stato salvato dalla chiusura per ragioni di particolare conformazione del territorio e di difficoltà dei collegamenti viari. Mentre, nell'allegato al decreto commissariale numero 10-2015 di soppressione dei punti nascita emesso dal commissario Luciano D'Alfonso, il presidio di Sulmona viene eliminato dalla tabella che prevede la riorganizzazione dei punti nascita, lasciandone semplicemente il terzo rigo in bianco. L'Abruzzo non potrà uscire dal commissariamento della sanità a danno dei cittadini del centro Abruzzo. La Pezzopane, conclude Bianchi, non cambi le carte in tavola. A Via Rabona Sulmona la frana non c'è più, è stata riaperta ieri l'arteria stradale. Vediamo tutto. Riaperta da ieri via Rabona Sulmona, che era rimasta chiusa per circa dieci giorni in seguito a una voragine causata dalla lenta erosione dell'acqua. L'evento franoso si era verificato nei pressi della sede della giostra cavaleresca di Sulmona e dell'ex lavatoio. I tecnici hanno lavorato con tempismo e precisione, nonostante le condizioni atmosferiche che non hanno agevolato gli interventi di riparazione sul manto stradale. A sollecitare il comune di Sulmona e gli enti competenti erano stati, nei giorni scorsi a Onda Tg, i residenti delle frazioni che temevano tempi troppo lunghi per la riparazione della frana. Il traffico veicolare è rimasto interdetto infatti dal 23 aprile scorso fino alla giornata di ieri, recando inevitabili disagi agli utenti che dal centro cittadino si mettevano nelle periferie. Dalle 15 di oggi rubinetti chiusi in alcune zone della città, non pochi i disagi per gli utenti, tutto è partito da una perdita in via Patini. La comunicazione è arrivata nel primo pomeriggio dalla SACA, le zone che sono state interessate alla sospensione sono il centro storico di Sulmona, per intero, via stazione Introdacqua, via stazione Centrale, le due circonvallazioni, via Valle, via Rabona, via Torrone, via Ale Europa e zone limitrofe. A ritorno dell'erogazione dell'acqua potrebbe riscontrarsi una situazione di torbidità dovuta ai lavori eseguiti. Con tempismo i tecnici della SACA sono a lavoro dal primo pomeriggio e dunque la situazione dovrebbe rientrare nella norma già da questa sera, quindi fra pochissimi minuti il ritorno dell'erogazione dell'acqua si prevede infatti per le ore 20 e 30 circa. E ora la politica sulmonese, macchina amministrativa da riorganizzare e la ricostruzione è da accelerare. Bruno Di Masci, candidato sindaco, ci lavorerà nei primi quattro giorni, lo ha assicurato ieri a Diario di Bordo. Sentiamo tutto nel servizio. Quattro giorni per rimettere mano alla situazione comunale, per spendere soldi del terremoto. Sembra convinto il candidato sindaco Bruno Di Masci che ieri ha presentato la sua candidatura a Diario di Bordo, il salotto di Antonio Di Bacco. L'organizzazione della macchina amministrativa e ricostruzione saranno le sue prime priorità. Il mio impegno è quello di riportare a posto la macchina comunale, di portare avanti 9-12 milioni che sono riferiti al terremoto, soldi che devono essere spesi per rimettere in moto l'economia della nostra città, spiega Di Masci, che mira a un ritorno al futuro. Un comunale entro quattro giorni e entro quattro giorni di portare avanti, abbiamo a disposizione da tanto tempo 9-12 milioni riferiti al terremoto che sono soldi che stanno lì e che hanno bisogno di essere spesi. Ecco, questa è una delle azioni che potrebbero mettere in moto l'economia del nostro paese. Ho finito nel 2000 di fare sindaco dopo l'elezione in Consiglio regionale. In 16 anni abbiamo avuto decine di commissari prefettizi. Sul mone in questo momento è abbandonata ed è in preda a problemi drammatici che vanno risolti immediatamente, tuona Di Masci, che punta su un patto civico per creare un tessuto connettivo sociale. Sull'assenza del PD nelle prossime elezioni amministrative, Di Masci sostiene la tesi che in questo momento bisogna mettersi alle spalle le proprie appartenenze politiche. Se passava una linea diversa veniva meno tutta l'impostazione che avevo dato alla mia candidatura. Ho chiesto l'unanimità dell'acclamazione da parte dei candidati e ho specificato che il simbolo non doveva essere presentato. In questo momento dobbiamo parlare solo di programmi. Conclude. Se non passava questa candidatura con unanimità Io non avrei più posto la mia candidatura, al di là delle otto liste. La seconda cosa che ho chiesto, perché è incoerente, ho chiesto che il simbolo non venisse presentato, anche se è un simbolo che nelle ultime elezioni amministrative, non lo dimentichiamo, è stato il primo partito in modo assoluto. E intanto sulle elezioni amministrative interviene anche la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Antonella Di Nino. Forza Italia ha fatto una scelta di coerenza. Il PD invece dov'è? Si chiede la Di Nino. Sentiamo un eservizio. Una campagna elettorale che è ormai partita con molte liste civiche, pochi simboli, però Antonella Di Nino Forza Italia c'è. E quanto rimarca, ha un datigì la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Antonella Di Nino, in merito allo scenario che si è creato a Sulmona per le prossime elezioni amministrative. Forza Italia c'è, ha fatto una scelta di appartenenza politica, di coerenza ed anche di dignità. E almeno a quello che ci risulta, non essendo state ancora depositate le liste, ma sembrerebbe che l'unico partito ad accompagnarsi in questa campagna elettorale con il proprio simbolo è proprio Forza Italia. Forza Italia c'è, ma il PD no, rimarca Di Nino. Io ritenevo che un partito che governa a livello nazionale, che governa a livello regionale, a livello provinciale e con un'amministrazione uscita targata a PD, forse era il minimo che potesse fare. Ci dovrebbero spiegare come mai oggi si vergognano di presentarsi con il proprio simbolo, che non ci vengano a dire che oggi va di moda il civismo, perché io credo che queste siano scuse assolutamente non tollerabili. Tanto più che poi abbiamo esponenti di fuori che arrivano qui in città, che vengono a battezzare candidati della città di Sulmona ben connotati, perché rappresentanti peraltro non di ultimo pelo del Partito Democratico, e però dicono il simbolo non ci sarà. Questo io ritengo che anche come ragionamento politico questo non abbia assolutamente le gambe per camminare. Tornando sulla candidatura dell'avvocato Elisabetta Bianchi, la coordinatrice provinciale di Forza Italia ribadisce. Io credo che Forza Italia non potesse fare scelta migliore. Elisabetta Bianchi è una donna di passione, è una donna di coraggio, è una donna che ha dimostrato nella veste di cittadina di questa città di sapere affrontare le battaglie. E credo che in una città che oggi ha bisogno di un condottiero, che ha bisogno anche di chi sa assumere posizioni forti, chi sa scegliere con coraggio, io credo che Elisabetta Bianchi è il giusto candidato che possa affrontare consapevolmente questa sfida. Che io ribadisco sempre, questa non è solo una sfida elettorale, perché le campagne elettorali iniziano e finiscono. La vera sfida inizia dopo il 5 giugno, allora quando ci si troverà costretti ad affrontare a livello amministrativo problematiche di natura sicuramente complicata. E allora lì ci serve chi ha competenza, chi ha capacità, chi soprattutto ha il coraggio e la passione. E tutte queste sono qualità che Forza Italia ha ritrovato benissimo in Elisabetta Bianchi. Siamo alla vigilia, o meno quasi alla vigilia della presentazione delle liste, quindi ormai è fatta. Quali saranno i toni, secondo lei, con la quale poi si scandirà la campagna elettorale? Guardi, io mi auguro che i toni di questa campagna elettorale siano toni sicuramente accesi, ma che non scadano nel misero. Io mi auguro che questi siano toni vivaci, ma a confronto con i programmi, perché io sono fermamente convinta che la città di Sulmona abbia bisogno di confronto amministrativo, abbia bisogno di chi sa confrontarsi con le idee, con i propri progetti, soprattutto con l'indicazione di soluzioni forti e decise. Mi auguro che ci sia ampio rispetto tra i candidati. Ovviamente a tutti va il più grosso in bocca al lupo, ma è evidente che nel cuore io ho Forza Italia e quindi il tifo e l'impegno sarà ovviamente al fianco del nostro candidato. Si è parlato di riqualificazione degli edifici esistenti ieri in un incontro al Parco Nazionale della Maiella con Architur. C'era per noi Gaetano Trigiglio. Il Parco Nazionale della Maiella ha aperto le porte all'Architur. Una giornata formativa per progettisti sulla riqualificazione degli edifici storici esistenti con il protocollo di Casa Clima R, il passato che diventa futuro. Si è svolta nella sala conferenza della sede del Parco Nazionale della Maiella la prima tappa Architur, consistente in una giornata formativa con l'agenzia Casa Clima sulla riqualificazione degli edifici storici esistenti e che meritano riattrazione e miglioramento sotto il profilo climatico ed ambientale. Casa Clima è un ente pubblico della provincia di Bolzano. Quali gli obiettivi della giornata formativa? L'agenzia Casa Clima si occupa di formazione e di certificazione degli edifici secondo dei protocolli che in Alto Adige sono obbligatori, invece in resto d'Italia sono volontari. Il Parco Nazionale della Maiella ha recentemente stipulato un accordo con l'agenzia Casa Clima e quindi hanno proprio stipulato un protocollo di intesa in modo tale che nel territorio si divulghi il più possibile Casa Clima in termini di protocolli sia di sostenibilità, sia di costruzione, sia di costruzione. Oggi questo convegno è dedicato al protocollo Casa Clima R che è il protocollo relativo alle riqualificazioni degli edifici esistenti sia vincolati, sottoposti a vincoli architettonici sia non. Il tour si è aperto con i saluti di Franco Iezzi presidente del Parco Nazionale della Maiella fra gli ospiti Tommaso Ginobile segretario della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Andrea Ledda del Dipartimento Scienze Metiche dell'Università di Chieti Pescara Lucio Zazzaro urbanista Qualificati relatori si sono succeduti nella giornata formativa sui vari aspetti della riqualificazione degli edifici storici esistenti e seguito poi un ampio dibattito. I protocolli di Casa Clima sono stati illustrati da Rosita Romeo ed Oscar Stupper. Relazionato sugli edifici già esistenti ecco come adattarli con quali criteri almeno diciamo per sommi capi per mantenere la temperatura giusta e evitare che si disperda poi l'energia. Ma di per sé sinceramente è molto semplice basta pensare a noi esseri umani quando d'inverno ad esempio abbiamo freddo ci mettiamo il cappotto e quando abbiamo caldo ci prendiamo ad esempio una tenda da sole che ci potregge dal sole durante il periodo estivo perciò sull'edificio è importante che un progettista e anche un esecutore guardino a delle regole basilari in modo tale da prevedere ad esempio un isolamento termico esterno quando è possibile o un isolamento termico interno quando il primo non fosse possibile adattando dei seramenti ad alta efficienza energetica e soprattutto per il periodo estivo che questi seramenti abbiano degli ottimi sistemi di ombreggiatura esterni. I lavori sono stati conclusi con l'intervento di Paolo Crepet noto psichiatra, sociologo sul tema difendere le nostre radici preservare la nostra cultura e il passato che diventa futuro. Una liceale del Fermi vince le Olimpiadi Nazionali delle Neuroscienze si chiama Chiara Dicenzo ed ha 17 anni noi l'abbiamo intervistata. Ha 17 anni ed è studentessa del liceo scientifico Fermi di Sulmona si chiama Chiara Dicenzo ed è la vincitrice della settima edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Neuroscienze competizione rivolta agli studenti dei licei e stiluti tecnici di tutta Italia ospitata nel Dipartimento di Bendicina Molecolare dell'Università di Brescia. La studentessa sulmonese si è imposta su 45 finalisti vincendo la finalissima che si è disputata tra i migliori 5 studenti. Un traguardo raggiunto dopo un lungo percorso selettivo che ha coinvolto 189 scuole superiori italiane e 5.871 studenti di cui 945 sono riusciti ad accedere alla fase regionale. Per la giovane Chiara Dicenzo si aprono ora le porte della fase internazionale che si terrà da 2 al 6 luglio a Copenaghen. Festeggiamenti al Fermi questa mattina da parte dei compagni di scuola per la giovane vincitrice accompagnata da suo padre alla presenza del dirigente scolastico del Polo Scientifico Tecnologico Massimo Di Paolo e delle insegnanti del Dipartimento di Scienze del Liceo Scientifico Valeriano Tarmuzzi e Olga Fabrizi. Il Dipartimento di Scienze Naturali ha lavorato e seminato bene anche al di fuori dei banchi di scuola dare degli input ai ragazzi che potranno comunque aiutarli nelle scelte future. Emozionata la studentessa ha affermato di essere appassionata di scienze. Questa passione dal primo che ho conosciuto appunto le neuroscienze ma ho avuto poco tempo per studiare e le ho approfondite nel corso degli anni e appunto come ho detto prima ogni volta che scopro qualcosa di nuovo sono sempre più affascinata verso questa materia. Soddisfatto il padre di Chiara Gianni Di Cenzo che raccomanda a tutti i giovani di lottare nella vita in ogni momento. Non mai demoralizzare una sconfitta non vuol dire che tutto è perso no bisogna da quella sconfitta far nascere un nuovo traguardo una nuova vittoria. Siamo orgogliosi ha detto il preside Di Paolo Chiara sarà eccellente promoter del nostro territorio perché porterà in alto il nome del liceo scientifico Fermi e veicolerà il nome di Sulmone e della Valle Peligna a livello mondiale. È un fatto che dovremo condividere con tutta la cittadinanza perché agisce il tutto. Poi quest'anno è stato un anno di estrema fertilità basti ricordare che i ragazzi del Polo soprattutto la componente del commerciale ha vinto il premio nazionale Sky il primo giornalino degli studenti fatto dal fermo ha avuto l'encomio nazionale dell'ordine nazionale dei giornalisti cioè possiamo andare avanti. Presenti oggi anche cinque studenti dello stesso liceo che hanno ottenuto buoni risultati nella fase regionale. Ricordarli sono Dalì Ciampa Matteo Zavarella Martina Bonadia Daniele Russo e Chiara Dicenzo Daniele Russo e Chiara Dicenzo insieme a un altro ragazzo di Pescara hanno preso parte alla selezione nazionale con i risultati che già sappiamo. Le prove affrontate consistevano in complessi test di conoscenza un cruciverbo da svolgere insieme alla squadra regionale una tavola anatomica del cervello da completare in solitaria la formulazione di una diagnosi di una malattia neurologica esponendo sintomi in inglese e ancora la risoluzione di quiz logici e mnemonici la risposta vero-falso a questi riteorici la prova finale in inglese ha visto i migliori cinque sfidarsi in domande riguardanti particolari casi clinici a conquistare la vittoria senza commettere errori è stata proprio Chiara Dicenzo complimenti Chiara Davvero davvero congratulazioni a Chiara intanto altri tre studenti del Fermi guadagnano la finale nazionale di atletica a Roma Domenico Verlingeri dopo il successo ottenuto dalle scuole sulmonessi di primo e secondo grado ai giochi sportivi studenteschi provinciali del 22 aprile scorso a Sulmona i rappresentanti del liceo Enrico Fermi e della media Serafini di Stefano si sono ben comportati anche a Pescara in occasione della finale regionale svoltasi allo stadio Adriatico Giovanni Coronacchia 4 sono state le vittorie centrate la Lorenza Bellei nel lancio del peso e nella staffetta 4% maschile composta da presutto di Sabatini Liberatore di Cesare del Fermi e quelle di Lucia Santucci a Remo Palazzone rispettivamente degli 80 metri e 100 metri ostacoli questi atleti unitamente ai loro insegnanti Annelise Canolle e Anna Maria Proietti rappresenteranno l'Abruzzo ai prossimi campionati italiani in programma a Roma nei primi giorni di giugno in occasione del meeting mondiale Golden Guard sul podio sono saliti anche per il liceo Fermi Neandro Arce ed Endi Mexichi medaglia d'argento nei 110 metri ostacoli e 3 chilometri di marcia Davide di Cesare medaglia di bronzo nei 400 metri Pierfrancesco Sabatini nel salto in lungo e Brian Di Lorenzo nel lancio del disco Tra le donne Vittoria Cassaccia Vittoria Tuzzi e Ludovica di Cesare hanno guadagnato rispettivamente l'argento e il bronzo nel salto in alto nel lancio del disco e nei 100 metri piani Va segnalata infine la prestazione di Luigi Marrese che nel salto in lungo si è classificato terzo con la misura di metri 5-0-3 E stamani a Castel di Sangro la 14esima edizione del premio Patini premiato il liceo artistico di Sulmona vediamo tutto nei servizi Premiato a Castel di Sangro il liceo artistico Mazzara nell'ambito della 15esima edizione del premio nazionale Teofilo Patini bandito dell'istituto di istruzione secondaria superiore Patini Liberatore con l'obiettivo di far riflettere le giovani generazioni sul tema delle radici attraverso le tele del pittore abruzzese tra gli alunni che sono risultati tra i vincitori del prestigioso premio con alcune opere che si sono distinte per il loro valore artistico Davide De Panfilis Andrea Silvano e Sanchez Mario Urtado il primo premio della sezione di pittura è stato assegnato a Davide De Panfilis l'opera dal titolo Il passato il seme del futuro è stata eseguita con la tecnica della pittura ad olio gli è stato inoltre attribuito un premio della giuria degli studenti per la qualità tecnica e per l'originalità interpretativa dell'opera di Patini il terzo premio di pittura è stato assegnato ad Andrea Silvano con l'opera eseguita con tecniche miste un premio anche alla sezione di scultura per Sanchez Mario Urtado con il suo particolare albero che rappresenta l'energia generatrice della terra Parliamo delle rose di Aldà il libro dello scrittore Sulmonese Ezio Forzano ispirato al terremoto in Iran del 2003 ce ne parla Domenico Berlingeri Dal terremoto del 2003 in Iran nasce la storia di una bambina che dopo aver perso tutto viene adottata da una ricca famiglia milanese la madre adottiva la riporterà poi nella sua terra d'origine è il racconto dello scrittore sulmonese Ezio Forzano intitolato Le rose di Aldà edito dalla Lupi editore di Sulmona il nome Ialdà rappresenta la notte più lunga dell'anno è tra le più importanti tradizioni iraniane il libro verrà presentato entro la fine di maggio ma come è nata quest'idea? questa passione per lo scrivere diciamo che ce l'ho sempre avuta fino a poco tempo fa mi sono dedicato diciamo quasi esclusivamente alla poesia partecipando a notevoli concorsi a parecchi dove tra l'altro qualche piccola soddisfazione me la sono anche presa ultimamente mi sono avvicinato al settore della sceneggiatura che mi ha sempre affascinato e da lì diciamo per una strana coincidenza che per il momento non posso svelare è nata l'idea di questo libro che uscirà a breve il terremoto in Iran del 26 dicembre 2003 avvenne nella città di Bam che fu semidistrutta il racconto trae spunto da quell'evento il libro nasce da una situazione avvenuta realmente quindi quella del terremoto del 26 dicembre 2003 avvenuto in Iran e che ha colpito la provincia del Kerman diciamo la provincia dove si producono i più bei tappeti persiani che girano per il mondo ecco questo evento sismico ha distrutto una città che è patrimonio dell'UNESCO appunto questa cittadina di Bam che ha molte affinità con Sulmona che io ho scoperto scrivendo questo libro dal tragico evento del terremoto l'autore Ezio Forzano ha creato la storia di una bambina che perde la famiglia i propri affetti e la casa una storia molto particolare che metterà in evidenza diverse attinenze tra il capologo Peligno e la realtà iraniana quando ho cominciato a scrivere questo questo racconto questo libro di narrativa ho subito capito le affinità che c'erano fra Sulmona e la cittadina di Bam sarà possibile scoprire le caratteristiche in comune leggendo le rose di Aldà di Ezio Forzano che intende creare un'unione tra le due realtà attraverso un progetto ambizioso io sto tentando di gettare le basi per un gemellaggio fra la città di Sulmona e la cittadina di Bam quindi portare a Sulmona la cultura la storia il folklore la gastronomia iraniana che è una terra da scoprire meravigliosa io ho avuto questa fortuna di visitarla virtualmente scrivendo questo racconto e ovviamente portare le bellezze di Sulmona della Vale Peligna in Iran Ovidio Running Sulmona la gara podistica che partirà il prossimo 7 maggio a partire dalle ore 18 una gara podistica competitiva di 9 km nello splendido scenario delle strade del capoluogo Peligno il raduno è previsto alle ore 17 e 30 la partenza da piazza Garibaldi la gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica alle 18 e 15 passeggiando nella storia un percorso per adulti e ragazzi di 5 km che si snoda nel centro storico della città Carol e Captain America questi i due film in programmazione questa sera la multisala Igeland di Corfinio il primo alle 21 l'altro alle 21 e 10 su Andalivu invece vi ricordo le 21 l'appuntamento con la rubrica di scommesse sportive Onda Strike ebbene il telegiornale finisce qui la prossima edizione domani alle 13 e 30 grazie per essere stati con noi a tutti voi lascio la buona serata arrivederci sulla nostra regione condizioni di cielo sereno poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sul settore orientale mentre assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne montuose con possibili rovesci anche a carattere temporalesco in estensione verso l'Aquilano la Marsica e il vicino Lazio ma un'attenuazione si avrà nel corso della nottata temperatura in lieve aumento nei valori massimi venti deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi mare generalmente mosso grazie a tutti